signori time wars film di fantascienza russo del 2023 molto incasinato molto in casa ma non perché sia fatto male ma se non arrivi alla fine non capisce un sacco di cose veramente non dico che sia sbagliato dico forse da vedere due o tre volte di fila perché i nomi non sono comunque semplicissimi per quello non gli do un 8 ma un 7.8 perché comunque non è fatto male mi sembra che non ci siano imperfezione certo che è bello bello incasinato i fatti speciali non sono il massimo comunque fatto abbastanza bene dai basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete lasciate un like ciao ciao